Ah, una bella corsetta sulla spiaggia! Spariamo un po' di sabbia in faccia ai turisti! Rubiamo qualche tavola da surf! Signora, cosa ha fatto? Ha cacato in spiaggia? Ma lo sai che non si può cacare in spiaggia? Continuiamo la nostra corsetta! Hop, 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 hop! Sapete cosa? Salto anche i gonfiabili! Opla! Saltiamo anche le signorine? Scusi, sarà il fidanzato? Salto la sua signorina! Oh, ha saltato la signorina! Vabbè, non facciamo distinzione, saltiamo anche i baschi! Eh, no, il maschio c'aveva gli addominali troppo alti e sono caduto! Oh mio Dio! Ah, no! Voglio picchiare? Ok, ti picchio io! Tranquillo! Che muscoloso che sei! Se solo fossi più veloce! Vai! Vai male! Ah, no? Corre più veloce di me! Devo allenarmi un po' con la corsa! E quindi oggi, ragazzi, facciamo Sonic contro Flash! E vediamo che è più veloce! Poi decideremo se diventare Flash, metterci la tutta di Flash! O se trasformarci in Sonic! Aspettate, fatemi prendere questo asciugamano azzurro! Prendiamo questo ombrellone azzurro! Il materassino e dovremmo trasformarci un po' in Sonic! Ed eccoci trasformati in Sonic! Ci carichiamo! Ok, pronti! Partenza! Sì! Via! Sonic, corri! Ok, sta correndo! Sta correndo! Forse devi solo prendere un po' di velocità! Vai Sonic! Corri Sonic! Corri! Aspetta, cosa sta guardando? C'è un bagnante in pericolo? Ci penso io! Sono Sonic! Il bagnino più veloce che c'è! Oh, signorina! Mi presta il cannocchiale, devo guardare qualche altra cosa! Vabbè, non mi sta neanche guardando! Non ci credo neanche che io sono Sonic! Forse dobbiamo diventare più veloci! Forse dovrò camminare sull'acqua! Cerchiamo di andare un pochino più veloci! Dobbiamo allenarci! Wow! Ci siamo trasformati in una macchina da corsa! Oh no! Stiamo guidando una macchina da corsa! Dentro c'è Sonic! Sonic, tutto ok lì dentro? Ma ci vedi qualcosa? Ci arrivi al volante? È così! Non ci arriva il volante! Cosa vedi Sonic? Non vedi niente! Sei sotto il volante! Bene! Alleniamoci un attimo! Dobbiamo fargli capire che cos'è la vera velocità! Quindi oggi ho in mente una serie di gare che possiamo fare a fare a Sonic e vedere chi per primo arriva in cima alla montagna del Monte Ciliad! Ve lo ricordate lo squalo con l'episodio di Leon squalo? Questa è la statua dello squalo mangiatore di umani che ha mangiato una tavola da surf! Sapete cosa? Li sgommiamo tutto! La sporchiamo tutta! Partiamo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aia! Sonic non puoi imparare la velocità se non riesci neanche a controllarla! Oh! Sonic! Ok, forse se ricordassimo dove andiamo! Bene! Prima di tutto dobbiamo stare in strada! Prima regola dei velocisti! Stare sempre su un percorso! Stare sempre in strada! Oh! E scusate il rosso mi ha tirato! Sapete quando si dice non schiacciare il bottone rosso? Ecco io schiaccio il bottone rosso! Oh un parcheggio! Qui possiamo provare a fare i parcheggi! Sonic deve parcheggiare! No! No! Sonic non deve parcheggiare! Iniziamo ad andare a Ford Zancudo! Uhuhuu! E poi dopo andremo al Monte Ciliad! Almeno così si chiama! Sì! È da tanto che non ci vado! Sapete una meta apertura... Oh scusi signore! Oh scusi macchina! Oh scusi ristorante! Oggi ho la magliettina bianca come il mio personaggio! Che purtroppo oggi non si vedrà! L'avete visto prima però... Ve lo presento! Si chiama Locchi! È un mio amico! Un mio amico! Fallo youtuber! Aspettate! Io mi diverto tantissimo a fare... A prendere tutte sti cose! Aia! Un palo! Un palo c'era! L'ho preso io! Oh! Signora cosa vuol fare? Vuol superarmi? Ma non vede che io sono Sonic? Aspettate! Mi cambia anche la targa! Aspettate! Ok guardate come si chiama ora Sonic Car! Che vuol dire macchina di Sonic in inglese! Andiamo! Andiamo! Oh mio Dio! Oh macchina sonica! Come sfrecciamo! Stiamo schietando! Ok! Non c'è neanche l'acqua qua sotto! Perfetto! Ma non ci importa perché devi anche imparare a frenare Sonic! Spero che la nostra macchina non si sia fatta nulla! Vai Sonic entra dentro! Cioè fai ad arrivare al gradino per salire la macchina! Cosa aspettate? Ma la lettone... Oh mio Dio! Più andiamo veloci più la lettone si alza! Wow! Ecco! Come fanno i capelli di Sonic a stare in piedi! Più va veloce più gli stanno in piedi i capelli! Permesso! Permesso! Bip bip! Oh mio Dio! No! 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 Non nell'acqua! Non nell'acqua! Non nell'acqua! Ok galleggia! Menomale! Ragazzi mi sono allenato un po' e devo dire che le mie gambine hanno iniziato a correre! Quindi siamo all'aeroporto perché... Aspettate! Wow! No! Mi serve un salto più in alto! No! Non riesco a saltare ancora tanto in alto! Cronometriamo quanto va veloce Sonic! 3! 2! 1! Vabbè! Ok! Ci sta mettendo un po' di tempo! Forse devo impegnarmi di più Sonic! Ti do un hot dog dopo! Anzi un chili dog! Oh mio Dio! Aumentato! Aumenta... Oh oh oh! Sonic! 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 Tutto ok? Ok! Questa non conta! Oh mio Dio! Ah! Aiuto! No no! No no no! No no! Scappa! Scappa dall'aereo! Aspettate! Rallentiamo il tempo! Oh mio Dio! No! Ci sta venendo addosso! Ci sta venendo addosso! Sonic! 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 Oh! Oh mio Dio! L'abbiamo schivato di un pelo! Aiuto! Ovviamente perderemo la sfida contro Flash! Però aspettate posso velocizzarlo? Lui teoricamente sta atterrando ma se noi vediamo un po'... Oh mio Dio aspetta! L'abbiamo fatto ripartire! Ha chiuso il carrello! Ha chiuso il carrello! Se ne sta riandando! Non ci posso credere! Non l'abbiamo fatto una cosa del genere! Lui stava atterrando! È ripartito! Come se non la fosse! No torna qui! Aspetta posso andarlo a prendere! Sono più veloci lui! Oh mio Dio! Ce l'ho quasi fatta! Ce l'ho quasi fatta! Oddio! No! Ci sono andati in acqua! Oh no! Cammino sull'acqua! Cammino sull'acqua! Ah! Posso anche rallentare il tempo! Aereo? Stai bene? Ha quasi preso quel gabbiano! Ora che si è allenato un po' Sonic! Che ne dici se facciamo vedere a tutti i nostri se è la vera potenza di Sonic? Facciamo un test! Dai! Sonic! Ora ti sei allenato! Oh mio Dio! Come ci dici di veloce? Quasi tremi! Oh mio Dio! Sonic! Che ti sta succedendo? Perché tremi? Sonic! Stai volando? Ti sei trasformato in Super Sonic? No dai! Non ancora! Questo conta eh! 3! 2! 1! Wow! Ok! Quanto ci abbiamo messo? Non lo so! Ve l'ho messo a schermo quanto ci abbiamo messo! Proviamo a rifarlo! Forse adesso è un po' stanco! Proviamo ora eh! 3! 2! 1! Ok! Ok! Ce la sta facendo! Ce la sta facendo! Non so quanto tempo è passato! Ma è stato molto veloce! Ora proviamo Flash! Ma adesso vi faccio una domanda! Vi piace di più Flash? O Sonic? Scrivetemi qui sotto nei commenti chi preferite di più! Sonic ha i guanti e le scarpe strane? Flash invece è figo! Però Sonic è Sonic! Oh è arrivato un altro aereo! Oh! Ha un buon'accelerazione Flash! Però non lo so! Lo sprint non ce l'ha tanto! Forse è più veloce Sonic! Sì! Ci sta mettendo un po' tanto tempo! Oh siamo arrivate! Però è più fico! Guardate che bello! Potrei esserci io sotto questa tuta! Oh mio Dio! C'ha l'accelerazione fortissima! Però poi dopo va quel che va! Invece Sonic va così da zero al mille! Spero non passi nessuna macchina! Vabbè lui è lentissimo! Poi ho rallentato anche il tempo così è ancora più lento! Guardate! Adesso va all'indietro! Oh mio Dio! No no no! Aspettate così va all'indietro! Oh ops! Anche tu va all'indietro! Però in direzioni opposte! Oh mio Dio! Si sta staccando in mille pezzi! Aspetta ancora un altro! In quanti pezzi si staccherà sto coso? Oh mio Dio! Facciamo ripartire il tempo! C'è questo piccolo bug! Ok! 3? 2? 1? Oh mio Dio! Ok! Ve l'ho detto la strada non è pericolosa! Cioè per noi! Proviamo a farci un bel giretto! Adesso! Oh le mie scie! Ah ecco! Oh siamo talmente veloci che non si vedono neanche le scie! Stavo dicendo facciamoci un bel giretto in autostrada! Che ne dite? Facciamo il primo ponte! Il secondo ponte! Siamo abbastanza veloci! Dovremmo fare anche la gara Flash contro Sonic per l'autostrada! Ci giriamo tutta l'autostrada! Ma le macchine scusate perché scompaiono le macchine? Io voglio le macchine! Io le voglio! Voglio le macchine! Tutte queste macchine che ci sono le voglio! No! Non dovete scomparire! Sanno già con chi hanno a che fare! Vedono Flash dicono Oh no c'è Flash aiuto scappiamoci! Tirerei pugni rallentando il tempo! No! Beh visto posso fare anche questo! Non devo per forza tirare un pugno! Visto? L'ho impiantata nel terreno! È morto! Oddio signore! Guarda che la macchina sta per esplodere! Se vuole fermo le fiamme! Ok! Ho fermato le fiamme! Non so come spegnerle! Signore! Tutto a posto! Ah aspettate! Ok! Così si fa il supereroe! Visto? L'ho salvato! Adesso lo prendiamo! Signore lo salvo io! Andiamo! Aspetta attiviamo la velocità! Ok! Signore! Signo! Signore! Signore! Però mi deve star dietro un attimo! Dove ho detto? Tenga forte! Tenga forte la mia mano! Dove è andato adesso signore? Oh oh! So che non dovrei stare sopra un ponte! Ma neanche sotto un ponte! Non siamo dei barboni! Ma vi ricordo che non c'è solo un flash! Ce ne sono tantissimi! C'è anche il reverse flash! Può camminare sull'acqua lui? Sì! Velocissimo! Aspetta! Dobbiamo tornare in aeroporto per fare la gara! Vai in aeroporto! Eccoci arrivati! Siamo pronti? Proviamo un altro flash! Oh! Stai arrivando l'aria! Aspetta! Aspetta! Aspetta qua! Aspetta qua! Ok! Pronti eh! Mi vedo le mani? Mi vedo le braccia? Mi vedo le gambe? Sì! Lui vede chi ha davanti? Forse no! Ci posizioniamo dritti! Lui sta arrivando eh! Siamo pronti qui ad aspettarlo! Ti stiamo aspettando Euruccio! Vieni qui! Ti faccio ripartire come solo io lo so fare! Con un bello scolaccione! Vado eh! Vado eh! Vado! Gambini pronti? Ok! Ok! Non doveva ripartire così anche perché non ha più le ali poverino! Va bene! Quante ruote avevi? Quante ne fai di tutte ste ruote? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove! Dieci, undici, dodici, tredici! Tredici ruote! Neanche pari! Tredici dispari! Proviamo il nuovo Flash! Che in realtà è il vecchio Flash! Ma vediamo se va più veloce o più le... Shia! Shia! Ah ecco è tornata! Ecco voi! Flash Gordon! Sì! È proprio lui! È Flash Gordon! Non sapete chi è Flash Gordon? È il primo Flash mai esistito! Non che sia bello! Però questa è la prima tutta di Flash! Eh? È particolare! Siamo pronti? Tre! Due! Uno! Stiamo andando? Forse dobbiamo attivare il boost! Magari lui è al contrario dell'altro Flash! L'altro aveva tanta accelerazione! Noi invece... No! Lì si muovono solo più veloci le gambe! Dai! Vecchio Flash! Ce la puoi fare! Flash vecchietto! Andiamo Flash vecchietto! Forza spingi con quelle gambe! Ragazzi mi sa che... Il tempo che arriviamo là in fondo sono passati due anni! C'è qualcosa che stiamo sbagliando! Wow! Forse coi pugni! Ok! Vai! Coi pugni! Sì! Ecco perché è così muscoloso! Perché lui va avanti coi pugni! Ok! Il timer sta andando eh! Da quando abbiamo iniziato a tirare i pugni! Oh ce l'abbiamo fatta! Non è stato poi così lento eh! A me non è dispiaciuto! Dumbel 2 a questo Flash! Però è forte! Andiamo a provare la sua forza! Se lasciate un mi piace facciamo un altro video delle gare con i nemici e gli amici di Sonic e i nemici e gli amici di Flash! Siamo al porto! Dai rincorri lì! Ciò che ce la puoi fare... Ah giusto coi pugni! Oh! Oh! Adesso ho capito! Aspettate! Aspetta! Può volare! Forse è saltando! Hai tipo un grillo! Ok! Saltando forse ce la si può fare! Però guardate! Wata! È l'uomo più veloce del mondo a tirare i pugni eh! Aspettate! Wuhuu! Sei stato talmente veloce che manco l'hai preso! Oh mamma! Che volo ha fatto! Wata! Dall'altra parte avevo chiesto! Però va bene così! Quindi devo fare un po' di cose! Vibra! Vola! Non velocissimo! Poi tira i pugni! E... Non è male quando tira... I pugni? Possiamo farci l'autostrada così! Con le macchine! Ok! Ma finché non c'è una macchina... Oh! C'è la persona! Pum! Beh! In testa dell'autostrada lui lo fallirebbe! I flash non sono finiti! Sto cercando di vedere dove va la macchina! Torniamo all'aeroporto! Aspettate! Ma lui potrà camminare in acqua anche se va così lento? Vediamo! Più o meno! Dai! Come fa... Non è vero! Sfida le leggi della fisica! Ma come fa? Come fa a volare? Cioè... Come fa a camminare sull'acqua se va così lento? Ah perché... Rallena il tempo! Il nemico più forte di flash... Lo facciamo magari nel prossimo video se vi piace! Lascia tu un mi piace! Possiamo fare zoom! Ma oggi vi beccate questo nemicuccio di flash! Non è un nemicuccio qualunque! Reverse flash! Flash che colore è il contrario! Però questo qui è abbastanza veloce! Credo che venga anche contro Sonic eh! Proviamo! No! Sembra essere ancora più lento di Sonic! Non so perché! Proviamo a usare il boost! Oh mio Dio! Proviamo... Ma cosa fa? Sgomma! Sgomma! Sta sgommando! Va talmente veloce da fermo che... Oh mio Dio! Mettiamo il timer! 3, 2, 1... Usando l'accelerazione dall'inizio eh! Oh mio Dio! Ho fatto anche la scommata! Come ho fatto a fare la capriola? Oh mio Dio! Dove è andato? C'era un aereo qua lo giuro! Oh mio Dio! L'ho ricolpito? Aereo? Oh mio Dio! Non sono controllo! No! Reverse flash è troppo forte! È troppo forte il reverse flash! Il test dell'autostrada non avrebbe neanche senso! Ci stiamo teletrasportando in milioni di... Posti! Al secondo! Ma siamo rimasti intrappolati in questo piccolo garage! Ok! Piano! Piano! Non mi colpire! Non mi colpire! Non mi colpire! Aia! Deficiente! Guarda! Hai preso anche l'unico palo che c'era! Oh! L'autobus è ancora in... Sono passato attraverso l'autobus! Ma dove è andato? No aspettate! Fatemi vibrare! Devo cercare l'autobus! Autobus! Dove è andato? L'ho fatto sparire dall'esistenza! Non l'ho mandato nella Speed Force! È sparito! Vabbè! Ci manca soltanto da provare l'ultimo flash! Forse! Questo a me sembra il flash di prima! Però forse aspettate un secondo! Oh mio Dio! È luminoso di notte! Non ci posso credere! Perché la luce è azzurra e verde? Non dovrebbe essere azzurra la luce! Oh mio Dio! Ma è velocissimo sto flash! Ma che bello è l'aeroporto pieno di lucini la notte! Wow! Ok! Questo è molto veloce! Ma non so se è più veloce di reverse flash! Forse questa è la tuta che usa quando batte reverse flash! Non lo so! È troppo veloce! Beh! Dall'occhio è illuminato! Con la città dietro tutta bella e illuminata! Con la tutina elettricina! Vi saluto! Siate veloci! Sììììì!